Musica Chiantù San Paolo disputerà il campionato di Serie D con una squadra di tutti i giovani Andiamo a conoscerli Martino Panzetta, classe 1992, ha già esordito l'anno scorso in Serie D, ci presenta tutti i suoi compagni Bene Qua abbiamo qua Gelorin, difensore, David Strametto, alla destra, Bello, terzino sinistro, Iaconis, nostro bomber Azzoni, centrocampista, Ruggirello, centrocampista, Bartolotta, in coppia con Iaconis e l'altro bomber Corti, difensore centrale, Palomaro, centrocampista, Campi, centrocampista, Cipriano, centrocampista Sabato, Liperta, terzino sinistro, Casti, centrocampista, Mattia Schioppa, terzino destro Moreno Rizzo, esterno sinistro, Daniel Fichera, esterno, Robi, centrocampista, Rashid, difensore centrale, Valo, difensore As, difensore centrale, Albi e Riva sono i nostri due portieri e il loro preparatore atletico è Rizzi Abbiamo il preparatore atletico invece è Mattia Riva e l'allenatore è Giuliano Lodini Mister, come sta andando la preparazione? La preparazione sta andando bene, acciacchi ce ne sono pochissimi, manca attualmente se è fatto male oggi Marte, è uno della vecchia guardia, altri due o tre ragazzi però in generale sta andando bene, i ragazzi si stanno proprio, stanno sudando, se avessero le famose sette camicie e pian piano siamo, sono fiducioso, li vedo belli convinti, belli allegri, vogliosi quindi la partenza per affrontare questa nostra scommessa è partita e io sono fiducioso, penso che piano piano li vedo sempre migliorare, sempre più vogliosi Bene, in bocca al lupo allora, grazie